Dirigente, un momento importante per sensibilizzare i ragazzi alla legalità. Abbiamo pensato di dare un segnale forte al quartiere, alla città, attraverso le lenzuola bianche appese alle finestre di ogni classe. Sono un segno di rinascita, ma soprattutto di ribellione. Quelle lenzuola che furono appese dai palermitani all'indomani della strage di Capaci, erano delle lenzuola bianche. Oggi invece sono lenzuola sulle quali i nostri ragazzi hanno scritto e hanno manifestato il loro no, il loro disappunto rispetto a questo processo che sembra sopito, ma invece è ancora attivo e si insinua in vari ambiti della nostra società. Come spiegare ai ragazzi che la mafia non è solo l'upara bianca e coppola, ma ormai la mafia è nelle istituzioni, nei palazzi di potere, e proprio nelle persone che apparentemente hanno una rispettabilità e una onorabilità? Intanto la scuola deve iniziare dall'interno, dalle piccole cose, dalle azioni quotidiane, ad alimentare una mentalità che non sia una mentalità mafiosa. Già nei rapporti interpersonali, già nell'uso delle tecnologie, già nell'utilizzo del linguaggio, per poi passare oltre. Sono passaggi importanti, ma sono anche passaggi necessari, perché se non siamo capaci di educare all'interno di un microcosmo, quale può essere la scuola, sarà difficile far passare l'idea che la mafia si può sconfiggere a livello delle grandi istituzioni del Paese.